Vai, 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 forza, 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 segna, segna, segna Steph, dimmi Puoi aprirmi la bottiglia da qua? Assolutamente no Dai, è troppo dura, non ci riesco Fere, non mi devi rompere le scatole, c'è il classico, stiamo all'ottantesimo Ma che noia Fammi finire la partita Non ti do una mano, apritela da sola O fai quello che vuoi, ma lasciami in pace Steph, ti devo dire un'altra cosa? Sì Devi andare a fare i piatti? Assolutamente no E ragazzi, come va? Io sono Ferenichi E io sono Steph che si chiama Hungry, Hungry Dead Ovvero, il simulatore di vita di un papà Che vorrebbe solo guardare la sua partita in santa pace Ma viene costantemente disturbato da tutti E quindi il nostro obiettivo sarà quello di non farlo arrabbiare troppo Povero papà Lui vuole sempre vedere le partite Io non ne ho mai voglia perché non mi piacciono, sinceramente E quindi lo disturba sempre, quindi il tuo gioco è perfetto Esattamente Non so da dove l'abbiamo tirato fuori Però ogni tanto ci sta a portare qualche giochino diverso È davvero simpatico E poi assomiglia tantissimo a 60 seconds È vero, è vero Adesso lo vedrete È davvero, davvero, davvero simile È molto simile la tipologia La tipologia di gioco Allora, siamo ai quarti di finale Quindi la partita è importante, ma non troppo Noi stiamo guardando la tv Possiamo bere dei drink per calmarci un pochettino È la bibita magica, quella Sì, ovviamente E ogni volta che ci compare l'iconcina Noi ci dobbiamo alzare Dobbiamo sistemare le faccende di casa Vedi, fare i piatti Fare i piatti Siamo proprio dei papà perfetti Velocissimo Guarda com'è felice di fare i piatti Ok, ok, ok Torno, torno, torno Mi siedo E in basso a sinistra, vedete La barra riscende Ogni volta che torno a guardarla Se sale troppo Mi arrabbio tantissimo Spacco tutto E spacco tutto E me ne vado via Ok, di nuovo i piatti Ma aspetti che mi bevo un attimo una bibita Ma hai sbagliato Non era il momento di berla Lo so, infatti ho sbagliato Ma non volevo metterla Ma dai, di nuovo i piatti Avete già sporcato Comunque lo capisco È una vera noia fare i piatti Lo capisco davvero Sono fatta Figliolo, che cosa c'è? Dimmi tutto Allora, 5 per 4 20 Ok Ok, fatto? Bravo, posta Ma figliolo, però Porca miseria Postano stati almeno difficili Esatto Ok E oltretutto Oltretutto Se il nostro caro papà Si perde un gol Nel mentre che sta aiutando I familiari Si arrabbia ancora di più Quindi bisogna anche fare attenzione A non fargli perdere troppi gol Giustamente Telefono 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 Chi è? Lasciateci Era qualche pubblicità di sicura Sto guardando la partita Lasciami pace Round 1 completato Difficile, che dici? È faticosino È faticosino Vero che assomigli a Second Seconds? Ovviamente la parte in cui devi recuperare Piaggetti possibili Prima che arrivi la bomba atomica Sì, diciamo la prima parte del dopo È similissimo Super carino Round 2 Semifinali Quindi si arrabbia molto di più E dura anche di più Forse ci saranno stati supplementari Non lo so Allora Subito la moglie vuole una mano Ad aprire un barattolo Vedi, quello che ti ho chiesto anch'io Vedi Lui almeno lo fa L'aiuta Buongiorno Excuse me Credo che li sto Urlando addosso Allora li stai leggermente insultando Io non vorrei dire Però È un po' maleducato Dai Dovrebbe parlare un po' più Mi stanno disturbando Mi sa che devo Fare qualcosa In modo diverso da così E sto sbagliando Anche secondo me stai sbagliando Eh sì Eh sì Eh sì No stiamo sbagliando Ma non è che devi seguire le lettere o qualcosa del genere Perché vedi che le lettere Ti puoi scriverla? Eh non lo so No mi sembra assurdo scrivere Oddio deve essere difficilissimo Non lo so Riproviamo E ti dicevo Una semifinale Se si parla tipo dei mondiali Credo che non mi alzerai nemmeno con un incendio Giusto per classificarti Lo capisci bene Allora Devi cullare No Devi andare a ritmo Come si va a ritmo? Come si va a ritmo? Stai facendo un disastro Ferre non capisco È difficilissimo Mi sa che qui quello che si arrabbia è Steph Non è il papà del gioco Non è possibile Ferre non si può fare una roba del genere Devo dire Allora Riproviamoci Semifinali Dai io non ci credo che non riusciamo neanche a superare il round 2 Vai Nuovi compiti di matematica Problemi di matematica mi fanno vedi già un po' meno paura Buongiorno figliolo Allora dimmi tutto 2 per 9 è 18 No hai scritto 8 4 per 10 è 40 Ok 1 è sbagliato ma fregatene Di niente figliolo Allora ok Ok Siamo partiti decisamente meglio Suonano alla porta Ho visto il gol Quindi è felice Ok per fortuna Per fortuna questa volta almeno uno l'hai visto Buongiorno Allora Sì Hai Spazio dannazione Hai Devi scrivere No Not Now Via Ok Fatto Ok avevo ragione che dovevi scrivere Ma è troppo divertente Ok mi siedo Calmi Calmi Devi andare a sturare il water Proprio adesso Chi è che ha fatto la pipì scusate No quella è la pupù Mi dispiace Se l'ho in tasia è proprio la pupù Ah veloce Clicca 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 Ok fatto 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 No Aia Allora Sediti bevi un po' Facciamolo calmare bevendo Si è rutto un tubo Proprio a tempismo Perfetto Allora ok ci rialziamo Spero che non perdiamo un altro gol Verace Verace Ma quello fa una posta Segnano proprio quando ci alziamo Esatto Allora qua devo cliccare Tutte le cose buccate Ok Fatto Fatto C'è il bambino che piange Ho perso un altro gol Dannato bambino Dov'è il bambino Dov'è il bambino È qua Il bambino è difficilissimo Te lo dico Allora No Fede Non ci riuscirò mai Ok Piano Piano Ok Aaaaa Mi preoccupa soltanto Il bambino Tutto il resto Credo di poterlo sopportare Anche le scritte Nella tastiera Dovendo fare di fretta È un po' complicato Però ce la posso fare No si si È bellina comunque Come tipologia di gioco Dover fare tutte ste cose Ok Benissimo È super interattivo È bellina Dai che ci becchiamo un gol Forza Messi Segna Dai Allora no Il bambino che piange Ecco qua Ma come Con che sfiga Con che sfiga Allora Ok Si calmi Oh Mamma mia Mamma mia Dai si sta addormentando Ce la fai Ce la fai Yes Incredibile Steph Ce la fa Per la prima volta Ok Sei riuscito a cullare La tua povera bambina La stavi facendo piangere Come una disperata Poverina È come aver vinto la partita Guarda È come aver vinto Ok Mogliettina Guarda questi barattoli Ti li spacco in faccia Fra un po' Veloce veloce Però fin quando è questo È abbastanza semplice Secondo me riesce a vederti il gol Adesso Dai un gol Yes Stanno per segnare Stanno per segnare Corri Che bello Bravissimo Con che tempismo Bravissimo Allora Di nuovi piatti Di nuovi piatti Ho sbagliato Vabbè Lo so Ogni tanto ci vuole E Mogliettina Hai bisogno di una mano No Ok Piatti Piatti Eppure il water Vedi che comunque In bassa destra Si ci segna Quando stanno per segnare Ho notato Ok Per fortuna Ok È ancora normale Vado veloce Vado veloce Vado veloce Guarda con che velocità L'ho fatto Non so come fai Gol gol Vai a vederti il gol Vai Ok Segnate Dai segnate Che dovevo fare i piatti Segnate Vado a fare i piatti Perfetto Vai Perfetto 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 Stiamo trovando il giusto equilibrio Siamo bravissimi Siamo dei papà perfetti Mogliettina Ci penso io No no Vai a vederti il gol Il gol Il gol Il gol Il gol Ce la dovremmo fare Che bello Il bambino ha problemi Anzi il figlio un po' più grande Con la matematica Allora dimmi tutto Che ci pensa Steph 3 per 5 e 15 Prendimi i tasti Per una volta Stanno per segnare Stanno per segnare Stanno per segnare Ma quanti gol Stanno facendo in questa partita È proprio una semifinale Con i fiocchi qua Uff Ah che bello Ce l'abbiamo fatta Bravissimi Bravi Sì Mi Sì Sì Però adesso c'è la finale Eh Sì 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 La finale sarà ancora 300 secondi Aiuto No Allora vai Vai Impossibile 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 gestirlo Impossibile Impossibile Vai 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 Ce la possiamo fare Gasati Gasati Allora Cosa È una cosa nuova No Cosa devo fare Cosa devo fare Sistemato Ok lo devi spegnere Basta Goal Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Lo prendo Dai segnate Segnate Poi vado al telefono Segnate Vado al telefono Segnate Ok Ottimo Ok Vedi se si gestisce Tutto bene Ce la facciamo Ce la facciamo Dai Urla Perfetto Bravo Meno male Che rispondi al telefono Sembra io quando rispondo al telefono Mi interessa Boom Allora 8 per 10 80 Via Grazie Arrivederci Veloce con la partita E non ci perdiamo neanche il gol Incredibile Lavandino E bambino che piange Ora si fa difficile Perché c'è il bambino che piange Ora si fa davvero difficile Assolutamente sì Facciamo prima il water Che è semplicissimo Quindi Però mogliettina Potresti andare tu Almeno per acullare tua figlia Allora Cioè dai Olè Stai diventando bravissimo ormai Olè 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 Yes Ottimo Allora subito Numero uno Allora Ok Gol 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 L'ho perso No Secondo me no Eh perché ero parecchi arrabbiato Ho bevuto anche una bibita Per darmi una mano Segnate E vado a fare un'altra cosa di matematica Dai con questo gol Perfetto Ok Dai stai andando bene Stai andando bene Stai davvero bravo Ce la puoi fare Allora se sbagliamo Mi ritiro 8 per 7 40 48 56 5 6 Ok Mamma mia Steph Finalmente utile la matematica Ok E' bellissimo sto gioco Veloce Vai 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 Veloce Allarme allarme Secondo me questo qua è molto urgente Va fatto molto in fretta Perché per il frastone che fa Sì è molto probabile che vada fatto veloce Ok Ci stanno lasciando Stavo per dire un attimino a guardare la partita No questo round è proprio il più difficile Vai Avvertimi se Lasciateci in pace Allora No Thanks Thanks Punto Punto Yes Ottimo Se sei riuscito a liberartene in fretta Finalmente Bravissimo Dino Non ci credo Aspettiamo il gol Aspettiamo il gol Aspettiamo il gol E poi andiamo Ma come può essere così Se non ci fossimo noi papà qui Come faremmo Come si potrebbe fare Il bambino sta piangendo No 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 Allora Colpa di quelli che hanno suonato la porta Che l'hanno svegliato Esatto Colpa loro Ok Bene Dai dormi Bravissima Bravissima Yes Ok cos'altro c'è Il barattolo Lo faccio al volo E poi il gol E poi il gol Con che velocità Sei un apritore di barattolinato Grazie Tuvo rotto Allora Goll e tubo Dai 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 Segnate Perfetto Vado Ci serve anche giocarci un'altra bibita Secondo me Sì sì assolutamente Assolutamente Allora Opla Opla Chiudiamo 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 Perfetto Sono stato Anche a riparare i tubi Sono velocissimo Ti giuro che ormai Sei un uomo di casa Perfetto Grazie Te lo dico Te lo dico Urla anche al telefono Come un vero uomo Alfa Come un vero uomo E quindi sei bravissimo Giusto in tempo Giusto in tempo Mi bevo un'altra bibita Perché qua bisogna abbassare parecchio Goal Scende tantissimo E andiamo Not now È semplice Now Via Perfetto Sei diventato Veloci Anche a scrivere Vai 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 Goal 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 Becchiamo il gol E andiamo di nuovo dal bambino che piange Yes Vedi che comunque sono sempre quelli alla porta che la svegliano È colpa di loro Sono dei criminali guarda Tagli un ceffone Va bene Allora siamo partiti male E mi sa che stanno anche segnando Quindi mi sta distraendo Allora calmo Steph Eh vedi Abbiamo perso un gol Certo certo Però ce la puoi fare No Ferre non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non puoi cedere alla fine Ferre non ce la faccio Ce la fai Ce la fai Ce la fai Ce la fai Ferre Ok Ok Miracolo Ok Allora Devo vedere un po' di partita Assolutamente Bevi la bibita Bevi la bibita Che ti aiuta Dai calmiamoci un po' Adesso ti vedi il gol E fai il batter Fate un bel gol Fate un bel gol Iniziamo a salvolare parecchio Abbiamo bevuto troppe bibite speciali Allora No secondo me Inizia a non vederci più Dalla rabbia Eh io te lo dico Water Yes Ok Piatti Piatti No gol 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 Prima di tutto Dai Veloce a segnare Veloce a segnare Perfetto Ottimo 20 secondi Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Piatti 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 Uno Due Tre Quattro Non ci vedo più nulla Il gol Vediti il gol Il gol Il gol Il gol Il gol Sono stanco Sono ok Quattro secondi Corro Tre Due Uno Best dad ever E anche la foto di famiglia Con tutta la famiglia felice Perché siamo riusciti ad accontentare tutti Bravissimi Sei stato davvero bravo Sinceramente non credevo che riuscissi a giocare così bene Te lo dico Allora a livello di difficoltà Mi ricorda quel gioco che avevamo fatto High School 101 Te lo ricordi Le assomiglia molto nel concept Però allo stesso tempo assomiglia a 60 seconds Difficilissimo Davvero 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 difficile Però è troppo carino Troppo troppo carino Troppo carino Credo che i consolini si sono divertiti a vedermi impazzire Anch'io Moltissimo E poi ti ripeto Sei stato davvero bravo È stata una figata vedere tutte le cose velocissime E riuscire a fare subite tre round Bravo Sono stanco Adesso ti meriti di riposarti e vedere la partita in pace Due ore e poi devo andare al lavoro Esatto Comunque direi che ci possiamo fermare così Sondaggino Commenti Likes Per farci sapere se volete vedere altri giochi simili Dove Steph impazzisce Ferinichi si diverte a vedermi impazzire Voi vi divertete a vedermi impazzire E io schiatto E basta Comunque ci fermiamo così Speriamo che il video vi sia piaciuto E ci vediamo domani Spero che se vi è riuscito a cercare un like Questa è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao Ciao